Ecco il vocabolario per questa lezione, la seconda parte del vocabolario, guardiamo a tavola. Allora, vediamo che c'è un cuoco e assaggiare la zuppa, assaggia la zuppa, il servizio, qui abbiamo una tavola, c'è il piatto, il menù, poi un tovagliolo, il bicchiere, la caraffa d'acqua, la tovaglia. E questa signora qui è vicino, c'è una forchetta, leggiamo insieme espressioni e il vocabolario. Vorrei essere a dieta, fatto in casa, al ristorante, l'antipasto, la bottiglia, il conto, il contorno, il dolce, l'insalata, il primo, secondo piatto, la tazza, la tazzina, i pasti, la colazione, il pranzo, la merenda, lo spuntino, la cena, le bevande, l'acqua frizzante o naturale, la birra, il latte, il succo d'arancia, il tè, per parlare del cibo, il gusto, amaro, dolce, insipido, leggero, pesante, piccante, salato, saporito. Guardiamo ancora anche questa pagina qui, vediamo, abbiamo ordinare il sale, il pepe, il vino bianco rosso, il coltello, la ciotola, il cucchiaio, il cucchiaino.